Cos'è il rilevante? Voglio che tu venga a Parigi. Vuoi dire che vada a Parigi? No, voglio che tu venga a Parigi. Con me. Tu ci vai veramente? È colpa tua. Mi hai convinto tu che c'erano delle cose che mancavano nella mia vita. Per esempio? Avere una vita. Non credevo che mi stessi ascoltando. Ascoltavo. Vuoi venire? Non dire di no. Vuoi? Sono... Sono appena tornata. Allora, dì di sì adesso. Partiremo domani. Domani? Io... Io devo parlare con David. Vieni via con me. Lo capirà dagli... Un paio di settimane. Sei formidabile, vero? Nel concludere gli affari... Qui gli affari non c'entrano. Non hai detto una volta che gli affari sono tutto? No. Ma sottoscrivo in pieno. Che cosa gli dirai? Che cosa gli dirai?